Quest'anno le fiere zootecniche internazionali di Cremona battezzano obbligatoriamente una edizione speciale nella quale porteremo tutti i contenuti tecnico-scientifici online quindi possono essere condivisi e vissuti dagli operatori attraverso le nostre piattaforme e nello stesso tempo la mostra zootecnica che non poteva avere gli animali e gli elevatori in presenza quindi sarà la fiera andare nelle stalle. I risultati della mostra zootecnica con il giudizio dei giudici avverrà successivamente e quindi andrà in onda il 14 di dicembre mentre la manifestazione con i contenuti tecnico-scientifici dal 3 al 5 dicembre. Da questa situazione dovremo prendere ovviamente i lati positivi i lati positivi sono quelli di avere maggiore visibilità a livello internazionale anche tramite altri canali il canale delle web è sicuramente uno di questi che non è sostitutivo all'evento fisico lo è quest'anno per ovvie ragioni ma sarà complementare quindi la possibilità di parlare con professionisti e arrivare anche al consumatore il consumatore che deve conoscere le qualità che ci sono alla base delle nostre filiere. Nel nostro caso sicuramente ci sono manifestazioni a misura d'uomo in quanto altamente specializzate quindi l'alta specializzazione è un valore aggiunto che a maggior ragione in circostanze come queste resta e acquisisce ulteriore valore per poter portare della sostanza al settore di riferimento. La fiera oggi più che mai, la fiera professionale in particolare deve dare una visione sul settore facendo riferimento a manifestazioni a misura d'uomo è ovvio che uno degli obiettivi principali è poter spiegare cosa succederà nel prossimo futuro e cosa succederà nel futuro agli operatori che la frequentano quest'anno anche online.